Like a Hellcat Ciao bello a tutti ragazzi Siamo un nuovo video Su Bruce Stars Allora ragazzi Se avete visto Il primo episodio Su Su Bruce Stars E Ho postato un video Che Poi Ho lasciato anche Che era l'ultimo episodio Di In The Road Ragazzi sto facendo un po' Non sto mischiando Perché Avevo sbagliato app Perché dovevo partare prima Bruce Stars E poi dopo 10 episodi 8 episodi Dovevo cambiare il gioco Vabbè portavo le stesse I stessi due giochi Oggi portiamo Un Bruce Stars Che Faccio delle partite Solo io O non sa più Il mio amico Daniele Ragazzi vi lascio Il link In descrizione Del suo canale Andatelo a seguire Ragazzi Perché È È un mio amico Che abita vicino a me Però Io vi dico dove Aspetta ragazzi Mi soffio il naso E andiamo con il video O no Vabbè Andiamo con il video Non giocavo Con me ragazzi Facciamo una cosa Insieme Insieme Che Facciamo qualcosa Ragazzi Indovinate cosa Mi sto portando In questi Domenica Indovinate Dai Indovinate Indovinate Ragazzi Non ve lo spoilerò Ancora Dite spoiler Che Non basta Con Un Ma Io l'ho detto già Con mio cugino Ah si L'ho detto già E vabbè Avete già sentito Io sono Scemo Ragazzi Non ve lo volevo dire Vabbè Ragazzi Io Vorrei Aprire Un Canale Un Un Club Club Su Blue Stars Che volevo Giocare Insieme Con voi Ragazzi Facciamoci L'ultima Partita Dai Spera Vi Porto Se Vi Concentro Al Massimo Cavolo Non Mi Piace Sto Fatto Che Vi Date Subito Un Personaggio Eh Non Vi Piace Non Vi Piace Proprio Come Ve lo Devo Dire Bruss Sto Bruss T Te Do Ti 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 Guarda, è più forte. No, eccolo, eccolo. Questo B will uccidere, guardate. Cavolo, per fortuna, ragazzi. 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 Io lo sapevo. Io lo sapevo. No. No, ragazzi. No. No, ragazzi. Siamo arrivati quarti, dai. Wow. Vabbè, fai chiederti, ragazzi. Ragazzi, il video è finito qua. Lasciate un bel like. Un bel like. Poi, ragazzi, domenica io vi sto preparando una cosa che ho detto anche nel video. Ragazzi, secondo voi, cosa vi sto portando? Commentate sotto, scrivete sotto ai commenti. E poi, cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Un personaggio, vi dico. Però, o domenica, o nello stesso video, penso, o no, martedì proviamo questo nuovo personaggio. Dovinate sotto nei commenti chi è? Allora, ragazzi, io vi saluto. Io vi saluto. Lasciate un bel like. Condividete il video. Noi ci ribecciamo. Un prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.